Consacrazione a Gesù per le mani di Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort Consapevole della mia vocazione cristiana, io rinnovo oggi nelle tue mani, Maria, gli impegni del mio battesimo. Rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere E mi consacro a Gesù Cristo per portare con Lui la mia croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa ti riconosco per mia madre e sovrana. A te offro e consacro la mia persona, la mia vita e il valore delle mie buone opere. Passate, presenti e future Disponi di me e di quanto mi appartiene Alla maggior gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Amen Io sono tutto tuo e tutto ciò che ho ti appartiene Amabile mio Gesù Per mezzo di Maria, tua Santa Madre Amen Per mezzo di Maria, tua Santa Madre